ok sono felicissimo di annunciarti ufficialmente che il perniciosissimo mal di testa con cui ti avevo lasciato dopo l'ultimo video mi è ufficialmente passato le luci alle mie spalle sfarfallano alla grandissima nonostante tutti quanti i generosissimi consigli che ho ricevuto in community che naturalmente non hanno sortito assolutamente nessun effetto è come se tutto questo non bastasse ho già pronto qui il mio contentino del giorno sotto forma di cioccolatino che mi guarda sornione dalla scrivania ma questo oggi sono un attimino in difficoltà perché vorrei parlarti praticamente all'infinito di questo software che sto per presentarti che è un software che è balzato in testa a tutte quante le classifiche di download di github negli ultimi mesi e devo dire a ragion veduta il mio unico rammarico è quello di non averlo scoperto prima anche perché mi interessa molto a titolo personale per quanto concerne la mia professione ma a questo punto non perdiamo altro tempo andiamo a vederlo insieme e quindi se ti senti pronto iniziamo ma può mai un video considerarsi tale senza che vengano prima ufficiate le relative operazioni preliminari beh la risposta a mio avviso è assolutamente no anche perché se non facciamo il nostro ritualino propiziatorio rischiamo che le divinità del tubo se ne abbiano a male e ci saltino al collo con tutti i sentimenti e quindi non sia mai che saltiamo il nostro consueto rituale apotropaico disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va non esito a definire quello che sto per presentarti come il più completo packet manager esistente sul mercato per windows ma che cos'è un packet manager se ben ricordi circa un annetto e mezzo fa su questo canale abbiamo parlato di wing at ui si trattava anche in questo caso di un packet manager che ci consentiva di scaricare e di installare nella massima semplicità e sicurezza i software che venivano presi dal repository microsoft di wing at sul nostro pc ebbene la limitazione di questo software era appunto che attingeva solo ed esclusivamente al relativamente limitato repository di wing at lo stesso programmatore di wing at ui tuttavia ha voluto superare se stesso ampliando incredibilmente la gamma di software disponibili e mettendoci in grado di installare praticamente qualsiasi software adesso sul nostro computer in maniera altrettanto semplice altrettanto sicura ma come se questo non bastasse ci consente anche di gestire gli aggiornamenti le rimozioni del software e se vogliamo anche di trasportare tutti quanti i software installati sul nostro computer su un altro pc insomma faccio prima a fartelo vedere tutto giusto quello che ti ho detto ma ho dimenticato la cosa più importante naturalmente si tratta anche di un programma completamente gratuito andiamo a scaricarlo insieme e per farlo apriamo il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andiamo a digitare come sempre gentiluomo digitale lo scritto male ma la ricerca funziona lo stesso faremo infatti riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it facciamo un clic per andare ad aprire il sito ed una volta aperto ci porteremo qui in alto sulla sezione downloads una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui quello che si chiama uniget ui mi raccomando a non confonderlo con winget ui che è un'altra cosa completamente diversa potremo fare clic sul pulsante file download per andare a scaricarlo ma nel caso in cui non riuscissi a trovarlo oppure non avessi voglia di andare a scartabellare in tutta la pagina per andare a reperirlo potrai tranquillamente cliccare qui in alto sulla lente di ingrandimento e nella barra di ricerca andare a digitare proprio uniget ui premiamo invio sulla tastiera per effettuare la nostra ricerca dopodiché ci basterà fare un clic su uniget ui per andare a scaricare questo software che ci metterà un pochino più del solito a scaricarsi visto che è un po più corposo rispetto ai programmi a cui siamo abituati di solito attendiamo quindi alcuni secondi che termini il nostro scaricamento terminato il quale troveremo il nostro software qui in alto aspettiamo ancora un secondino eccolo qua eccolo qui uniget ui punto installer punto zip possiamo fare clic su questo file appena scaricato per aprire la cartella compressa che lo contiene e potremo anche chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più per effettuare l'installazione di uniget installer ti basterà fare doppio clic sull'unico file presente all'interno della cartella compressa ma attenzione perché questo programma ha anche la possibilità di essere installato in modalità portable e quindi l'unica cosa che ti servirà sarà un pendrive da collegare esattamente come sto per fare io al tuo pc ecco fatto a questo punto facciamo doppio clic sull'unico file presente nella cartella compressa scegliamo la voce installa solo per l'utente attuale scegliamo la lingua che preferiamo naturalmente io lascio qui l'italiano clicchiamo su ok clicchiamo su avanti in questa finestra per procedere con l'installazione e a questo punto nel caso in cui volessimo installarlo in maniera stabile sul nostro computer potremo lasciare tutto quanto così com'è diversamente cliccheremo sul tasto sfoglia e andremo ad individuare il nostro pendrive il mio è semplice da capire qual è perché si chiama appunto pendrive e come vedi è contraddistinto dalla lettera e clicchiamo sul pulsante ok per procedere andiamo su avanti e clicchiamo dopodiché scegliamo in questa voce esegui installazione portatile se appunto vogliamo installarlo su pendrive diversamente lasciamo tutto quanto esattamente com'è clicchiamo su avanti e quindi su installa e attendiamo il termine dell'operazione ebbene incredibile ma vero ma per la prima volta nella storia di questo canale sono riuscito a non mangiare il mio cioccolatino parola di lupetto clicchiamo sul pulsante fine e uniget ui sarà stato installato sul nostro pendrive come vedi si apre direttamente senza bisogno di fare nulla e adesso andiamo a vedere come funziona come puoi vedere questo programma si suddivide in quattro sezioni fondamentali la prima è la ricerca dei pacchetti la seconda l'aggiornamento dei pacchetti installati la terza riguarda la gestione e quindi l'eventuale rimozione o modifica dei pacchetti installati e infine la mia preferita raccolte di pacchetti ma andiamo con ordine e partiamo proprio dalla prima ovvero la ricerca dei pacchetti che come detto in apertura rappresenta uno dei più straordinari punti di forza di questo software perché è in grado di attingere a diversi repository tutti quanti certificati e sicurissimi per scovare qualsiasi software anche quelli più introvabili un esempio su tutti il famosissimo pc manager che pur essendo un prodotto microsoft è stato completamente rimosso dal microsoft store italiano se infatti andremo a cercare pc manager all'interno del microsoft store ci verranno proposti tutt'altri software a partire da win toys passando per ccleaner e così via tuttavia se all'interno di uniget ui andremo qui in alto sulla barra di ricerca dei pacchetti e scriveremo per l'appunto proprio pc manager effettuando la ricerca vedrai che appariranno addirittura tre fonti diverse su cui il nostro pc manager è disponibile come si fa a questo punto dopo aver trovato un software in questo modo ad installarlo niente di più semplice tutto ciò che dovremo fare sarà scegliere la versione che vogliamo installare è il relativo repository ovvero la sorgente selezionarlo spuntando la relativa casella e cliccare su questa voce preferibilmente come amministratore dovremo confermare con sì di voler apportare le opportune modifiche al nostro sistema ma come vedrai l'installazione sarà completamente automatica e al termine dipendentemente dalle dimensioni del software che stiamo installando il software si ritroverà installato sulla nostra macchina in pochissimi minuti ecco qui come vedi pc manager è stato installato correttamente e qui c'è la relativa icona ma passiamo a questo punto alla seconda voce quella che si chiama aggiorna pacchetti come vedi al suo interno sono contenuti tutti quanti i pacchetti installati sul nostro computer che richiedono un aggiornamento per effettuare l'aggiornamento anche in questo caso quello che ti suggerisco è di cliccare su aggiorna pacchetti selezionati naturalmente dopo esserti accertato di aver selezionato spuntando le relative caselle tutti quanti i pacchetti che vuoi aggiornare andiamo avanti perché a questo punto abbiamo anche la possibilità di gestire i pacchetti installati in questo caso se vorremmo rimuovere un qualsiasi pacchetto installato sul nostro pc tutto ciò che dovremo fare sarà andare a selezionare il relativo pacchetto e cliccare sulla voce disinstalla pacchetti selezionati confermiamo con sì di voler procedere con la rimozione del pacchetto e come vedi in pochi secondi lo stesso sarà disinstallato dal nostro computer e veniamo all'ultima voce quella che mi entusiasma di più è che si chiama raccolte pacchetti perché mi entusiasma perché nel mio lavoro spesso mi capita che un cliente mi chiami e mi dica guarda vito per la mia azienda ho comprato quattro nuovi computer vieni a farmi le installazioni dei software che utilizziamo di solito e che aggiungo io sono centordici e ogni volta devo stare ad impazzire per scaricarli ed installarli tutti ebbene con questo sistema questa cosa non si verifica più perché una volta salvata una raccolta di software mi basterà andare ad aprire questa raccolta e una volta aperta al suo interno troverò tutti quanti i software che utilizzo e per installarli mi basterà selezionarli tutti quanti cliccando su questa casellina qui e cliccare semplicemente su installa selezione in pochi minuti troverò su quel computer tutti quanti i software installati ma come si crea una raccolta te lo mostro subito ci basta in questo caso cliccare sul pulsante nuova raccolta come vedi l'elenco si svuota andremo in ricerca pacchetti sceglieremo i pacchetti che vogliamo installare o meglio aggiungere alla raccolta in questo caso avast free antivirus e cliccheremo sul pulsante aggiungi selezione alla raccolta allo stesso modo torneremo nuovamente su ricerca pacchetti e digiteremo non so ad esempio dropbox effettueremo la nostra ricerca sceglieremo il pacchetto dropbox e lo andremo ad aggiungere alla raccolta una volta terminato di indicare tutti quanti i software che vogliamo memorizzare in questa raccolta ci basterà fare clic su salva raccolta con nome potremo spostarci ad esempio in questo caso sul desktop e fare clic su salva comparirà un nuovo file che consiste nella nostra raccolta e che una volta aperto andiamo sul desktop ad aprirlo troveremo tutti quanti i file che gli abbiamo indicato una bella bellissima comodità una raccomandazione finale ma non per questo meno importante il mio suggerimento è di installare questo software sul tuo computer se conti di utilizzarlo solamente su quello perché per quello che ho potuto provare funziona meglio diversamente se avrai bisogno di utilizzarlo su diversi computer il mio suggerimento è quello di metterlo come abbiamo visto nel corso del video su chiavetta ma veniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima io mi dedico al mio amico